Ha funzionato questa cosa e guardate qua, guarda qua quante gemme, si, si, guarda qui, piccolino dove sei, eccoti qua, ma guarda quanto sei buccioso, guarda qua che bello, si Ciao amici, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video Ciao amici e benvenuti in questo nuovo fantastico video di Roblox, ci troviamo sempre qui su Bubblegum Simulator Oddio, ma che cos'è questo, oh mio dio, guarda qui, mamma mia, 27.000, 27k, cioè questo ragazzo ha fatto una gomma da masticare da 27.000, ma è gigantesca Siamo in questo nuovo fantastico episodio di questo simulatore divertente che vi sta piacendo veramente tantissimo, grazie a tutti per il supporto che state lasciando a questa serie Lo sapete appena esce, appena raggiungiamo i 3.000 mi piace, vi iscrivete nel canale premendo il tasto rosso iscriviti, facciamo un nuovo episodio, si, facciamo un nuovo fantastico episodio Guarda qui, abbiamo trovato una moneta, perfetto, allora in questo episodio cercheremo di scovare il nuovo posto che dovrebbe essere The Twilight Il nuovo mondo, dobbiamo trovare questo mondo misterioso chiamato The Twilight, quindi dobbiamo superare lo spazio E per superare lo spazio, mi sa che qua dobbiamo cercare di farci una bella gomma da masticare gigantesca E quindi cercheremo di riempire, di far diventare gigantesca questa gomma da masticare E arriveremo tipo a 15.000k se ce la facciamo E forse compreremo un nuovo gusto E in questo episodio apriremo altre uova per poter trovare altri amichetti veramente pucciosi Perché questi sono pucciosissimi, queste volpi sono veramente pucciose Ma voglio trovare degli amici che sono ancora più rari e splendenti Come tipo quelli che avevo fatto vedere nel precedente episodio Mi sto divertendo veramente tantissimo a fare questa fantastica serie su Bubblegum Simulator Scrivetemi nei commenti se vi piace anche a voi, se vorreste vedere altri video Lo sapete che questa serie continua con il vostro supporto Quindi finché la supporterete continuerò a far uscire tanti bellissimi episodi Aspettate, aspettate, qua abbiamo dei rewards Abbiamo dei rewards, prendiamoli tutti Wow, ci hanno dato anche 15 gemme Grazie mille, grazie tante Grazie tante per queste 15 gemme Allora, qui che cosa facciamo adesso? Le uova le compriamo adesso? No, le compriamo un po' dopo Cerchiamo di prenderle Apriamo dopo le uova Perché in questo episodio apriremo sempre una spotted egg Ma compreremo anche una ice shard egg Compreremo un uovo di ghiaccio E forse troveremo qualche animaletto puccioso di ghiaccio E quindi non vedo l'ora Ma nel frattempo voglio sbloccare il terzo mondo Perché forse nel terzo mondo potrei trovare Tipo delle uova che sono migliori Che costano molto di meno Quindi cominciamo subito Andiamo subito nella prima isola volante Perché voglio cercare di aprire la cesta Eh sì, sì, vabbè Siamo andati troppo in alto Quasi, fra un po' arriviamo allo spazio Uhuh Arriviamo nello spazio Non voglio dare lo spazio Voglio aprire la cesta segreta Eccola, è qui, è qui, è qui la cesta segreta Sì, eccola Non ha aperto ancora di giuno Andiamo, andiamo Eccola qui Boom Seimila Wow Seimila, ma che cacchio è? Ma che cacchio è? Abbiamo trovato il tesoro segreto nascosto Di Fortnite Abbiamo trovato un pochino di cose Allora, la gomma da masticare Seimila e trecento è arrivata Perfetto E frattempo usiamo i trampolini E cerchiamo di arrivare nello spazio Così cominciamo ad accumulare le gemme E tutte le monete dorate che ci servono Perché, sapete, con le monete dorate Possiamo aprire le ceste Cioè, scusate Possiamo aprire le uova Possiamo comprare nuovi gusti E possiamo fare tante cose Infatti, dobbiamo cercare A parte di ingrandire la gomma da masticare Perché vendendola ci facciamo tanti soldi Ma anche raccogliere tantissime monete Se ce la facciamo E più andiamo in alto Più troviamo tesori nascosti E tipo tesori, ceste Piene di soldi o piene di gemme Guardate, siamo quasi arrivati Finalmente No! No, ho sbagliato tutto Ho sbagliato tutto Dobbiamo stare molto calmi Avete capito? Piccolini Dovete stare molto calmi Perché questo è un posto pericolosissimo Veloce, veloce, veloce Questa volta voglio arrivare così tanto in alto Da tipo superare Elon Musk E voglio andare su Marte Voglio andare su Marte Voglio andare su Marte E ce la faremo E ce la faremo Oh, cacchio, cacchio Cos'è questo? Oh, cacchio Sono in una brutta posizione No, 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 no Ho sbagliato tutto Mamma mia A parte che ci possiamo arrivare tramite il portale E io che sto facendo un po' lo stupido Perché voglio tipo divertirmi un po' saltando sulle nuvole Anche se, sapete, arrivando in un posto si sblocca il portale Quindi non bisogna perdere tempo ad andare tramite le nuvole Infatti si può andare anche senza nuvole Si può andare tramite un portale Ma che cacchio Ma ce la facciamo Dai, su Quanto la devo fare diventare grossa? 10.000 Mi sa che la gomma da masticare non ci aiuta nel salto Sapete? Mmm Che brutta cosa Ecco, dobbiamo cercare di andare su questi bei trampolini Così riusciamo a salire più velocemente Però dobbiamo stare attenti Guardali quante gemme Fantastico Allora andiamo qui sopra Cioè, facciamo una cosa Atterriamo qui sotto In quel bel trampolino Però è sotto la nuvola di ghiaccio Eccolo, eccolo Perfetto Sì Fantastico Eccoci qua E adesso andiamo su quel trampolino Vedete? Bisogna andare avanti di trampolini Per cercare di non cadere giù Così è molto molto più semplice Avete visto? Wow Abbiamo Siamo già arrivati tanto in alto Oh cacchio Sì È con forziere È con forziere 470 monete Tantissime Sono tantissime Ma l'obiettivo Il mio obiettivo È arrivare tanto in alto Nel nuovo mondo E trovare le gemme Trovare tantissime gemme Perché quello è l'obiettivo Siamo a 700 metri E vabbè Adesso non siamo più a 700 metri Siamo ritornati Sì È troppo difficile Andiamo Dai che ce la facciamo Manca così poco Vedo già il prossimo obiettivo Che non so che cos'è Potrebbe essere Una stazione spaziale Sul pianeta O nello spazio Tipo costruita in un asteroide Su un asteroide Quindi siamo quasi arrivati Ciao il pianeta Mi ha fatto rimbalzare Ciao mi hanno fatto tutto rimbalzare Ciao è difficilissimo salire È molto difficile salire Perché qua non vedo trampolini Oh mio dio Una sacca di gemme Perfetto Vedete è molto difficile salire Perché non vedo trampolini Quindi non dovete rischiare Come sto facendo io Ecco come sto facendo io Che sbaglio sempre tutto Guarda guarda Sono tornato giù Ma non ci credo Cioè guarda dove sono Sono tornato giù Wow È difficilissimo Dobbiamo stare molto attenti Dobbiamo concentrarci E passare da un asteroide all'altro Non dobbiamo Chi vuole troppo Nulla stringe Quindi dobbiamo andare con calma E avere pazienza Però questi pianeti Però vedete Vedete Mi fanno rimbalzare Oh cacchio ce l'ho fatta Mi fanno rimbalzare questi pianeti Cacchio Allora andiamo da un pianeta all'altro Così non rischiamo di farci male Perché qua vedete Mancano i trampolini Per questo diventa più difficile Andare avanti Per questo diventa più difficile Chissà quale persone Che sono qui in alto Cosa avranno Saranno super ricche Ecco facciamo una cosa Qui andiamo su questo asteroide Perché più avanti Ecco diventa più difficile E invece ce l'abbiamo fatta Guarda qui C'è un razzo Wow Guarda qua Abbiamo superato i razzi Fantastico Oh Oh mio dio Ce la facciamo Oh vedo qualcosa Vedete Vedo asteroidi viola Bellissimo No Eh vabbè È troppo difficile Ma non ci credo Ma quanto è difficile Wow Non pensavo fosse così difficile L'ho presa sotto campo questa cosa Ho trovato il modo migliore Per salire con calma Senza sbagliare Sapete qual è? E guardando in basso Quindi vorrei Se siete bloccati anche voi In qualche posto brutto Guardate in basso E cominciate a saltare in questo modo Quando beccate qualcosa Perfetto Ritornate nel vostro posto E risaltate di nuovo Questa volta ho sbagliato Perché tipo ho beccato un pianeta Ed ero in una brutta posizione Però saltando così Riesco a capire Se c'è qualcosa intorno a me Poi rifaccio un secondo salto E salto da quella parte Perfetto Adesso vedo che c'è un asteroide Tipo lì in basso Però ho beccato Ne ho beccato un altro Adesso salto di nuovo Ecco Ho visto Ho trovato un pianeta Perfetto Adesso so che saltando Adesso saltando ancora Posso andare a destra Perché a destra c'è un pianeta Solo che l'ho beccato Oh cacchio L'ho beccato un po' male Forse è troppo in basso Dovevo aspettare Prima di andare a destra Adesso vedete Sono andato a destra In ritardo E boom Sono andato Sono riuscito a salire Adesso saltiamo di nuovo a destra Poi a sinistra Perché so che c'è un pianeta Qui sopra che ci dà fastidio Marte Fantastico Non c'è più Giove Ecco qua Ora siamo ancora più in alto Vedete con calma In questo modo Si riesce a salire molto in alto Però bisogna stare molto attenti Perché non bisogna avere fretta Vedete bisogna saltare Poi risaltare Risaltare ancora Non cercare di Passare da una cosa all'altra In un salto Perché sennò diventa difficile Come adesso Vedete Se andavo su quel pianeta Cadevo giù come prima Adesso Mi sono fermato in questo asteroide Perché ho detto Un dato non ci arrivavo Quindi è meglio Si E vedete un po' cosa ho fatto Ho sbloccato un nuovo posto Fantastico Siamo a 1134 metri Ha funzionato questa cosa Guardate qua Guarda qua Quante gemme Si si Quante gemme che ci sono Nel frattempo La mia palla La gomma da masticare Quanta è arrivata 26.200 Wow È tantissimo Cacchio Non me ne sono neanche accorto Perché ero concentrato A salire qui sopra Ci è voluto tantissimo tempo Ma abbiamo raggiunto Questo nuovo mondo Chiamato The Twilight E infatti adesso abbiamo Tipo raggiunto Questo nuovo livello Cosa Guarda qui Questo qua c'è una gomma da masticare Da 67.000 Mamma mia È tantissimo Ma guarda qua C'è anche dei bimbo stracciati Gli biglissimi Guarda qui A quanto pare qua Vendendo la gomma da masticare Per una bolla Ti dà due monete dorate Cos'è un mio scritto Potrebbe essere un mio scritto Blackfire01 Ciao No Dove sono andato Aiuto Allora A quanto pare ti comperono Meglio le gomme da masticare Quindi È meglio vendere qui sopra 28.000 Vendiamo Vendiamo 57.000 ho fatto Grazie alieno Dovetei Eccoti Grazie mila alieno Mi hai dato tantissimi soldi Adesso ho sblocato anche il portale Quindi non devo neanche più Arrivarci Normalmente Infatti Arrivare qui È stato veramente una fatica E quindi userò sempre il portale Adesso torniamo subito giù E andiamo ad aprire Delle belle uova E guardate qua Abbiamo sbloccato altri obiettivi Perfetto Prendiamoli tutti 400 gemme Non me ne sono neanche accorto Che siamo arrivati a 400 gemme Perfetto Pensavo di shopparli con i robux Non serve più Perché lo possiamo già fare adesso Guarda qui Un bellissimo uomo di ghiaccio Bello Sì Abbiamo trovato un lupo di ghiaccio Ecco Finalmente abbiamo trovato Un bellissimo pet Molto molto bello Andiamo su pet Cerchiamo di equipaggiarlo Togliamo questi Perché vogliamo fare assai del livello Ovviamente Il nostro uomo di ghiaccio Perché salgono di livello A quanto pare E quindi Piccolino Dove sei? Eccoti qua Ma guarda Quanto sei buccioso È bellissimo Mi piace Mi piace tantissimo E facciamo una cosa Compriamo anche un nuovo spot Perché voglio vedere se riesco a trovare uno raro No Common Ma che cacchio è? È un topolino È un topolino Apriamone un altro Voglio trovarne uno raro Da poter tenere nella mia collezione Un altro topolino Ma che cacchio? Sono topolini Sto trovando Apriamo tipo il penultimo E vediamo un po' Di aprirne poi un altro Mamma mia È solo topolini Ma che cacchio è? È la rivolta dei topolini Aspettate Visto che abbiamo 70.000 Possiamo prenderne uno spiked Cacchio Qua troviamo anche i pipistrelli È anche uno leggendario È un unico Quindi questo uovo è molto meglio Perché ci dà Cioè ci dà tantissimi animali preziosi Per 35.000 monete Cerchiamo subito di comprarlo Oh mio dio Guarda qua che bello Sì Sì Cos'è? Oddio abbiamo trovato un dinosauro Però è common Ma che cacchio Dai abbiamo trovato un dinosauro common Ne apri un altro Ne apri un altro Spendi tutti i miei soldi Sì No Abbiamo trovato un golem common Ma che cacchio Ma è difficilissimo trovare Cioè animali preziosi Uffa E comunque abbiamo aperto tante uova E vabbè Se vorreste vedere nel prossimo episodio Io che apro tantissime altre uova Raggiungiamo i 3.000 mi piace E iscrivetevi al canale Premendo il tasto rosso iscriviti Guarda qua Abbiamo trovato tutti questi Biglissimi Pro Il coso Il lupo di ghiaccio È il più bello È il più carino È il più coccoloso Spero che questo video di Bubble Gum Simulator Vi sia piaciuto Raggiungiamo i 3.000 mi piace Per un prossimo fantastico episodio Iscrivetevi al canale Premendo il tasto rosso iscriviti E ci vediamo Un prossimo video Ciao ciao